Si è tenuta ieri a Palazzo Santa Lucia una riunione con l'unità di crisi e tutti i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, nella quale sono state affrontate le problematiche relative alla riapertura delle scuole. Si ritiene assurdo e totalmente inefficace la disposizione nazionale secondo cui il controllo della temperatura viene fatto a casa. Per questo motivo la Regione ha deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti per fare in modo che la temperatura venga misurata agli alunni all'ingresso degli stessi istituti. Si comincerà ovviamente dalle secondarie superiori, si farà poi una verifica tra 4-5 giorni per capire l'andamento dello screening volontario sul personale scolastico. Le strutture sanitarie e regionali si preparano a coprire eventuali vuoti per fare in modo che tutto il personale arrivi negli istituti dopo il necessario controllo.